Chi ti ha detto dove trovarmi? Il tuo impresario. Gli ho detto che se volevi restare a Vienna ti serviva il mio aiuto. Ah, quindi sto per essere bandito dalla città, è così. Bene, saprò goderne. Fermati. Sono venuta qui per aiutarti. Perché? Perché ti dovrebbe interessare cosa mi succederà ora? Perché eri mio amico. Io sono tuo amico. Ci siamo conosciuti molto poco. Tanto tempo fa, tu non mi conosci affatto. Allora perché hai parlato con me? Perché ti sei preso il disturbo di... Allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Davvero esotico. Sono andato in Russia, poi in Asia minore e poi in Oriente per molti anni. Così lunghi. Volevo sempre tornare. Solo che continuavo a pensare di trovarlo dietro al prossimo angolo. Cosa? Un vero mistero. Ho visto cose straordinarie, ma l'unico mistero che non ho risolto era perché il mio cuore non riusciva a dimenticarti.